ciao a tutti ragazzi qui è marchio faggio oggi vi farò come installare le applicazioni gratis prima di tutto andare su google dovete scrivere black marta e andare su chiusa red e fare e fare il su download e poi dovete installare l'applicazione poi uscite andate su e scrivete quello che volete cercare ad esempio io voglio cercare di torrent e adesso lo posso anche scaricare vedete è gratis poi bisogna andare su install e facendo un luogo poi bisogna aspettare poi è e istanlare l'ho Grazie a tutti E vabbè, bisogna aspettare E comunque, ciao a tutti su ogni video Se ti piace tanto, mi piace Grazie Ciao a tutti Io, rock that beat Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti